...di Roma perché sono persone che puntualmente e con molto senso di responsabilità sono quotidianamente in loro territorio e insieme ai consiglieri comunali municipali stanno lavorando in un grande progetto e stanno monitorando il territorio. Quindi io vi presento uno a uno, primo municidio Marco D'Occia, cioè Marco D'Occia, e dentro il municidio Francesca Quaranta, terzo il municidio Infanti Laura, quarto il municidio Domenico Ciacco, quinto il municidio Mattia Battucci, setto il municidio Fabio Vittori, settimo il municidio Massimo Parisi, ottavo il il municidio Maggi Di Fedo, nonno il municidio Antonio D'Apolito, decimo il municidio Pini Mangon, centesimo il municidio Matteo Maione, centesimo il municidio Valeria Campani, centesimo il municidio Angelo Betti, quattordicesimo il municidio Fabio Vittori e quattordicesimo Andrea Campani. Grazie a tutti ragazzi perché ogni giorno, ogni stato, ogni domenica sono in mezzo al territorio a fare i famosi banchetti che tanto vivono, ma la gente si avvicina e ci chiede le cose quasi la pa rec e loro sono sempre grazie a tutti